Segui La Sette anche su Instagram, La Sette ovunque con te. Non solo, ma quelli che erano dei mostri per quanto riguarda noi europeisti, per esempio l'idea che la Germania potesse camminare da sola e si potesse addirittura riarmare da sola, sta avvenendo, cioè la Germania si è riarmata e la Germania vuole andare un po' per conto suo, ma tutta l'Europa del Nord... Qui ci ha messo 200 miliardi e dice io ce li posso mettere e li metto, voi fate come vi pare. Ma questo sarà il problema che noi avremo nei prossimi mesi quando l'Europa del Nord rispetto al nostro debito porrà dei vincoli molto pesanti, quindi è chiaro, noi dobbiamo fare qualcosa, faremo qualcosa, ma abbiamo dei vincoli cogenti, ma non solo, ma la prima cosa che dovremmo fare è quella che ci dice il Papa, cioè fermare la guerra, se noi non fermiamo la guerra, certo c'è qualche problema di speculazione sulle bollette, ci sono i future, possiamo cercare di avere delle soluzioni per rallentare questa crescita, ma il problema di fondo è la guerra, perché anche l'approvvigionamento alternativo che noi diciamo di voler fare delle risorse energetiche, ok, faremo a meno dei russi, ma bisognerebbe spiegare agli italiani con quali costi, perché per noi la Russia era essenziale per poterci mantenere competitivi sui mercati mondiali, sia con gli Stati Uniti e sia con l'Asia. Adesso questo rapporto che si rompe con la Russia, diciamo, dove ci porta? Io però questa cosa, perdonami, ma non l'ho capita bene, perché alcune fonti mi sembra che dicano che il gas che ci arriva dalla Russia, in fin dei conti, è una quantità residuale rispetto al gas complessivo. Adesso è il 9%, diciamo. Benissimo. E quindi il tema della guerra che tu poni, anche vedere con le reazioni a catena... Ma l'abbiamo sostituito con altri approvvigionamenti, ma che costi? Sì, però se stiamo parlando del 9%, tutto sommato sarebbe accettato. Adesso è il 9%, adesso è il 9%. Quindi noi abbiamo provveduto a fare delle cose alternative. Una delle cose alternative che abbiamo fatto nella transizione ecologica italiana è tornare al carbone in maniera massiccia. Noi stiamo praticamente... Mentre ovviamente avevamo preso tutta un'altra direzione, vedi Cingolani, tutta la discussione sul Ministero. Obbligata, visto che i ghiacciai si stanno sciogliendo. Allora, facciamo così. Io torno sulla questione guerra-pace, perché so che è un tema che ti sta molto a cuore. Guerra-pace. Qui è il problema di quale mondo noi immaginiamo nel dopoguerra. Cioè, che cosa vogliamo fare? Vogliamo costruire una cortina, un altro muro tra noi e tutto l'est di cui fa parte la Russia? Secondo me se noi andiamo in quella direzione saranno solo disastri, diciamo. Eh...